C'è un itera autorizzativo per il progetto di realizzazione del ripristino funzionale del porto che è in Etinere, un accordo con Eni di cui si è già espressa un'intesa chiara sulla spendibilità degli oneri di compensazione per realizzare l'opera che si chiuderà nei primi di settembre. Preciso che l'amministrazione a distanza di 20 minuti dal ricepimento della proposta di Eni aveva già risposto, eravamo proprio in zede nel regionale, con alcuni dettagli da curare nella stipula dell'accordo, quindi ha dato piena disponibilità e siamo pronti alla firma. Firma che comunque non blocca l'itera autorizzativo che deve andare avanti e a prescindere. È chiaro che quindi la regione attraverso la protezione civile deve individuare il responsabile unico di procedimento, i progettisti che trasformano la proposta progettuale elaborata in condivisione tra amministrazione comunale e protezione civile in un progetto da portare a bando di gara. Quindi nessuna criticità, tutto sta andando a regola e quindi tanto fumo per nulla in un certo senso. Gela storicamente non ha mai avuto per incapacità politica un ruolo nelle autorità portuali. Solo grazie alla nostra iniziativa di provare a creare una coalizione che vede Gela inclusa nel nuovo sistema portuale a Augusto e Catania è stato possibile realizzare tra le cinque regioni di convergenza proprio in Sicilia la prima area logistica integrata d'Italia che vede nella coesione tra l'autorità portuale di Messina, quella di Catania, quella di Augusta, il porto di Siracusa e il porto di Gela una appunto coesione territoriale vasta che ci permetterà di ragionare nella logica di nuovi investimenti infrastrutturali presentando un piano da qui ad ottobre che includa anche il rilancio delle infrastrutture gelesi cosa che ovviamente segue un iter diverso da quello del porto rifugio e va in autonomia. Proprio con me ho portato giusto per fugare dubbi e sospetti che ormai vengono creati ad arte per strumentalizzare l'azione amministrativa la copia dell'accordo di adesione tra appunto la regione, il ministero delle infrastrutture, le autorità portuali, Gela, giusto per mettere in evidenza che grazie all'azione amministrativa condivisa con il presidente della regione Gela fa parte di quest'area logistica integrata assieme appunto ad Augusta, Catania, Messina, Pozzallo eccetera. Questo è il documento in originale, queste sono le firme di tutti i partecipanti giusto se qualcuno vuole mettere in discussione la veridicità delle affermazioni che l'amministrazione fa attraverso i media ma evidentemente forse si era abituati ad altro.